Siamo al sito dell'Università Cattolica del Graben, dove c'è la Cefades, che si occupa specialmente dei ragazzi ex soldati, ex maimai di come si dice. E allora quando escono dalla foresta, arrivando nei villaggi, nelle loro famiglie, spesso la famiglia non accetta più di integrarli nella famiglia, perché anche la famiglia ha paura che le altre non le considerano come famiglie che fanno male agli altri, ma a poco a poco si inseriscono con l'aiuto anche della chiesa a educarli con il centro come questo, allora sono chiamati nel centro, chiamano anche i genitori, i genitori anche vengono a imparare qualcosa, a capire che sono ragazzi che si può ancora recuperare. Allora dopo una formazione i ragazzi hanno già una nuova mentalità, anche le famiglie accettano già e la società finisce per accettarli. La chiesa fa tutto per insegnarli e anche dargli dei mestieri, quando hanno imparato i mestieri, per esempio di muratura o di falegnameria o di acconciatura. Allora dopo, quando hanno imparato quei mestieri, sono inseriti nella società, lavorano da loro stessi e non hanno più il desiderio di tornare nella foresta. Ecco, allora per questo abbiamo quindi tutta una scuola, un centro dove si formano e abbiamo anche dei specialisti che si occupano di loro. A parte questo, diciamo, tutto questo anche consideriamo che è veramente per fare un bene alla chiesa e alla società, perché sì abbiamo i ragazzi che cambiano di vita e imbarano a costruire la pace con gli altri, non con le armi, ma quella pace che si fa nel cuore, la pace che viene da Gesù Cristo e diventa veramente un'opera di misericordia che fa bene a tutti noi, a tutta la chiesa, a tutta la società.